Scusa Billy ma finisce qui è una forma? no ma che? è un sedere è un formaggio presso negli occhi ha rovinato tutto ehi vuole un passaggio? si magari beh ti lo fanno appiccinare alla meta no? non ho voglia di controllare le presenze quindi se no ci siete alzate la mano mi sveglio mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno torno a casa e vado a dormire mi sveglio mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno torno a casa e vado a dormire mi sveglio mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno torno a casa e vado a dormire mi sveglio mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno torno a casa e vado a dormire mi sveglio mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno mi sveglio mi lavo, vado al lavoro No, 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 no.